Il caro carburante, i cui prezzi sono stati spinti ancora più in alto dalla guerra in Ucraina, costerà probabilmente un importante blocco dei trasporti. A partire dal lunedì 14 marzo le aziende di autotrasporto sospenderanno a livello nazionale i loro servizi per causa di forza maggiore, ha spiegato Trasporto Unito. L'Associazione Nazionale di Categoria ha voluto però precisare come non si tratti di uno sciopero né di una rivendicazione specifica, bensì di un'iniziativa finalizzata a coordinare le manifestazioni sullo stato di estrema necessità del settore. La sospensione dei servizi si è resa inevitabile, si legge in una lettera inviata da Trasporto Unito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per tutelare le imprese e impedire che le esasperate condizioni di mercato determinate dal rincaro record dei carburanti si traducono poi in vantaggi per altri soggetti del settore trasporti. Alla sospensione dei servizi prevista per il 14 marzo, una Tras ha invece annunciato manifestazioni degli autotrasportatori in tutta Italia sabato 19 marzo. La situazione è diventata drammatica, avverte in una nota all'Unione delle Associazioni dell'Autotrasporto in Italia. Continuando a tergiversare, il governo si assume il rischio che nascano nuovamente iniziative spontanee di protesta, nonché la responsabilità di lasciare committenze senza rifornimenti. La protesta degli autotrasportatori potrebbe portare nell'immediato a un'ulteriore grave impennata dei prezzi al dettaglio. La denuncia in questo caso arriva direttamente dal Kodakons. Considerato che l'85% della merce venduta in Italia viaggia su gomma, afferma il presidente Carlo Rienzi, questo aumento dei prezzi è un ulteriore danno per i consumatori ormai stremati al pari delle imprese dal caro carburante.